Meno di 100 casi nelle ultime 24 ore, meno di 9.000 gli attualmente positivi in tutta la regione. La Puglia prosegue spedita il suo cammino verso l'uscita dalla terza fase della pandemia. L'ultimo bollettino epidemiologico riporta 61 nuovi contagi a fronte di 7.142 tamponi effettuati. Il tasso di positività è dell'1,1%. 17 casi sono stati accertati in provincia di Taranto, 13 in quella di Brindisi, 12 nell'Eccese, 11 in provincia di Bari, 5 nell'Abbate e 4 nel Foggiano. Solo 3 i decessi per Covid avvenuti nelle ultime 24 ore, tutti nella provincia di Barletta-Andreatrani. Ancora un calo tra i ricoverati. Ieri erano 225 in tutta la Puglia, oggi sono 203. Sul fronte della campagna vaccinale sono invece 3.114.000 le dosi somministrate sino ad oggi in Puglia. Nella BAT sono oltre 5.000 le vaccinazioni portate a termine nella giornata di ieri, più di 3.600 quelle concluse solo nella mattinata di oggi. La Puglia intanto recepirà subito la nuova circolare del Ministero della Salute che permette agli under 60 che hanno ottenuto la prima dose di AstraZeneca di chiedere il richiamo sempre con AstraZeneca anziché Pfizer o Moderna. Lo dichiara l'assessore alla sanità della regione Puglia Pierluigi Lopalco, quindi in Puglia sarà possibile rifiutare la vaccinazione eterologa. Per gli under 60 spiega l'assessore come da ultima circolare del Ministero partiamo subito con la possibilità di somministrare la seconda dose di AstraZeneca a chi lo richiedesse.